Ora ufficiale con la vittoria nel derby di ieri per 2-1 l'Inter vestirà dalla stagione 24-25 lo scudetto con la seconda stella sopra lo stemma in quanto appunto è il ventesimo scudetto per i nero-azzurri lascio da parte tutte le polemiche riguardo il discorso sì ma sono 19 sul campo di qua di là di su di giù perché comunque ci sono sentenze che al di là che si sia contro o a favore fatto sta che gli scudetti sono 20 per l'Inter quindi insomma voglio termi fuori da queste polemiche però voglio concentrarmi un pochino sull'importanza di questa vittoria perché è duplice la vittoria dell'Inter lo scudetto e soprattutto il primo derby nella storia del calcio quantomeno con il Milano non so gli altri che ha portato uno scudetto quindi ulteriore sconfitta per il Milan e ulteriore onta per il Milan in campionato perché dopo l'eliminazione dopo la duplice sconfitta contro la Roma arriva anche la sconfitta nel derby e ovviamente la matematica insomma concessione diciamo così dello scudetto all'Inter un Milan che onestamente non mi è assolutamente piaciuto ma prima di parlare di Milan voglio fare i grandissimi complimenti all'Inter perché abbiamo assistito a una stagione clamorosa per i nero-azzurri poi come sempre ci deve sempre stare quel piccolo fattore di fortuna che deve girare sempre ma come ha avuto l'Inter come in tutti gli scudetti da parte di tutte le squadre come in tutti i lati della vita ma veramente complimenti all'Inter perché da inizio anno ha dominato ha dimostrato forza ha dimostrato sicurezza una squadra che ha imparato a gestire momenti difficoltà quelli dove insomma che gli vanno un po' più a favore diciamo così ma veramente una corazzata una corazzata con il migliore centrocampo d'Italia secondo me se non d'Europa o quantomeno tra la top 3 e che veramente è stata gestita molto bene da Simone Inzaghi un tecnico che ha trovato nell'Inter la sua dimensione probabilmente ha saputo valorizzare determinati giocatori sfruttando anche insomma il lavoro dei tecnici precedenti comunque un bastone così tu ce l'hai perché con Conte il lavoro bene il lavoro buono insomma l'ha fatto anche il tecnico Leccese quindi insomma Inzaghi ha saputo anche sfruttare l'ottimo lavoro appunto dei tecnici passati però veramente complimenti un derby che nonostante sia finito 2-1 non mi ha mai dato l'impressione che l'Inter potesse rischiare il pareggio se non di perderlo cosa differente del Milan il mio non mi ha mai dato la sensazione di poter recuperare pienamente il risultato un Milan che l'identità non ne ha finito il derby in modo folle con la doppia espulsione di Teo Hernandez e di Calabria sono espulso anche Dunfries però Dunfries a mio avviso al 99% sarà il sacrificabile nel prossimo mercato per rientrare un pochino i soldini perché sappiamo tutti i problemi finanziari dell'Inter comunque un Milan che è veramente poca 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 roba e io penso che Pioli debba soltanto al dia di quello che dice anche Bobo Vieri io terrei Pioli ma ragazzi ma quante figure Barbina ha fatto il Milan quest'anno nel senso il Milan è secondo e va bene ma diciamo sempre che è a meno 16 meno 17 forse meno 17 all'Inter meno 17 dalla prima in classifica meno 17 quindi una bella fetta sotto la prima possiamo dire che il Milan abbia mai lottato per lo scudetto? Assolutamente no assolutamente no anzi il Milan deve ringraziare perché questa cosa è anche a dire deve ringraziare il discorso che la Juventus ha una media retrocessione in questo giugno di ritorno perché vi ricordo che il Milan con quella Juventus era se non ricordo male a meno 7 meno 8 adesso non so a quanto e più rispetto alla Juventus ma se la Juventus avesse mantenuto un trend comunque positivo o comunque favorevole e non un punto a partita il Milan sarebbe anche molto indietro rispetto alla Juventus probabilmente quindi non dobbiamo alzare il tappeto e buttare sotto la polvere perché i problemi del Milan ci stanno anche oggi le scelte le avevo messo centro avanti poi Calabria ancora sto fatto delle imposte da tre poi Calabria centrocampista centrale Hernandez che avanzava insomma non si capiva niente e tu cosa vuoi fare vuoi andare a rischiare vuoi andare a sperimentare in un derby non lo so secondo me Pioli ha mancato anche un pochino di gestione del gruppo e poi ovviamente alcuni giocatori secondo me sono sopravvalutati l'ho detto anche nello scorso video riguardante il Milan il primo tra i quali è Leao e in parte anche Teo Hernandez perché Teo Hernandez sta dimostrando una nel senso la sua potenza fisica è direttamente proporzionale alla sua fragilità mentale quando devi incidere non l'ha mai inciso e anche quella reazione di oggi contro Dumfries un vero campione se tu sei campione ti sei zitto e vai via non che fai baruffa ok la partita magari era già così finita c'è il nervosismo ma penso che bisogna saper vince e bisogna anche saper perdere e in alcuni elementi del Milan oggi l'hanno saputo perdere perché anche secondo me la reazione di Calabria è derivata da questo fatto del nervosismo appunto di questa sconfitta del derby adesso sto vedendo le immagini perché giustamente il video lo vedete stamattina però comunque l'ho registrato nella notte prima quindi sto un attimo rivedendo le immagini l'altro Martinez quasi lacrime una stagione fantastica del Toro ma adesso mi viene in mente il Toro mi viene in mente anche Turam il gol di Turam ma ragazzi ma la difesa dov'era? ma tu sei così passivo tu veramente vuoi affrontare un derby non tiri fuori le palle per non cercare quanto meno di pareggiare un derby e tu difendi così in modo passivo tu fai prendere il palla a Turam e ti fai fare quello che vuoi non aggredisci il giocatore o il pallone tu veramente non lo so non lo so non lo so e qui appunto ritorno anche sulla difficoltà sul reparto difensivo del Milan che secondo me va totalmente rivoluzionato perlomeno tre quarti che non dirmi che Gabby a livello a parte Tomori a Kier ciao io che sono cresciuto con la difesa Tassotti Maldini Baresi Filippo Galli voglio dire vedendo insomma questi in costa curta qualche dubbio mi viene un po' un po' di patema d'animo mi viene quindi voglio dire sì cioè nel senso no la sfida del Milan va assolutamente rivista quantomeno in tre dei quattro uomini e l'Inter deve solo puntellare prevede una cessione importante nel prossimo mercato a mio avviso il più sacrificabile anzi sacrificato sarà Dumfries e vediamo un pochino come si verrà la situazione perché poi ripeto ovviamente non faccio analisi tecniche sul discorso dei conti dell'Inter perché adesso si vedrà quello che farà Zhang se eccederanno qualche altro pezzo forte staremo a vedere staremo a vedere comunque mi sento di fare complimenti all'Inter e caro Milan no no così non va fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate vi mando un abbraccione ciao al prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti